Buonasera, bentornati! Oggi è venerdì, ultimo appuntamento della settimana con A Tu per Tu con il programma che ogni giorno porta nelle vostre case un professionista diverso. Questa settimana torna il nostro avvocato amatissima Rosella Guerini Rocco che avete imparato a conoscere perché è una delle nostre ospiti ricorrenti. Buonasera a tutti. Ciao Rosella, ben ritrovata, bentornata. Grazie a voi. Ogni volta che viene a Rosella vi proponiamo un argomento diverso ma che casualmente anche un po' per caso, un po' per attitudine, hanno a che fare con i nostri diritti soprattutto sugli immobili. Abbiamo scoperto questa cosa qua e insomma col suo piglio deciso, il motto che ormai avete imparato a conoscere, ossia meglio agire subito perché si portano a casa dei risultati migliori. Non bisogna aspettare quando si subisce un'illegalità, un sopruso di qualsiasi genere ma abbiamo visto proprio legati agli immobili, ai vari abusi che le nostre proprietà possono subire. Ecco che dobbiamo agire immediatamente perché spesso poi i tempi burocratici sono abbastanza dilatati. Di che cosa parliamo in questa puntata Rosella? Vuoi dirlo tu? Allora parliamo di occupazione abusiva di immobili, quindi è un argomento che riguarda sia la sfera penale che la sfera civile del nostro diritto. L'articolo 633 del codice penale prevede che chi invade arbitrariamente un terreno o un edificio altrui con lo scopo di occuparlo o per trarre altro profitto commette un reato e questo reato è punito dalla legge con una sanzione che addirittura prevede la reclusione fino a due anni ovvero la multa da 103 euro a 1032 euro per coloro che commettono questo reato. Questo reato però deve essere denunciato da qualcuno, cioè da colui che subisce questa violazione. Quindi questo è un reato a querela. A querela ma è legato, cioè è di diritto penale, si va nel penale. Sì sì sì, ovvio che poi ci sono anche degli aspetti civilistici di cui parleremo ma è previsto proprio come reato. Quindi se occupate la cosa altrui si va nel penale, sono guai seri. Sono guai seri. Tra l'altro se l'occupazione è commessa da più di 5 persone oppure da una persona armata, addirittura la sanzione aumenta e quindi va la reclusione da 2 a 4 anni e la multa dal doppio, quindi da 206 euro a 2064 euro. In questo caso si procede d'ufficio, quindi è il pubblico ministero che venuto a conoscenza della notizia di reato può procedere d'ufficio. Non è necessaria la querela di parte. La querela di parte deve essere esporta entro tre mesi dal momento in cui si è accertato il compimento di questo fatto illecito. Quindi da quando lo si scopre. Da quando lo si scopre. In buona sostanza. Ma scusami, ti interrompo avvocato. Quando hai detto che si può procedere d'ufficio nel caso ci siano più di 5 persone a fare occupazione e siano armate? No, o 5 persone oppure una persona. Anche una sola armata. Sì, fallezemente armata. Come si fa a procedere d'ufficio? Cioè chi è che avvisa? Qualcuno deve fare una comunicazione perché il pubblico ministero non può conoscere tutto ciò che succede nelle case delle persone. Quindi sicuramente deve essere fatta una segnalazione. Ma per dire la querela deve essere effettuata da chi subisce la violazione. Se il procedimento è attivabile d'ufficio la segnalazione può pervenire anche da terzi. Quindi non necessariamente da colui che ha subito la violazione. Bene. E attenzione che la violazione può essere commessa anche dal proprietario. Il proprietario che concede in locazione un immobile non può entrare arbitrariamente nell'immobile concesso in locazione. Perché non ha più il possesso di quel bene. Perché nel momento in cui io firmo un contratto e cedo in locazione l'immobile, il nuovo detentore è colui che sottoscrive questo contratto in qualità di conduttore dell'immobile. Quindi il proprietario non può arbitrariamente con le famose doppie chiavi entrare nell'appartamento mentre il conduttore è ad esempio in vacanza piuttosto che al lavoro. Però se non ci sono diversi accordi può essere che ci sia. Ci deve essere ovviamente un accordo tra le parti e allora in quel caso non viene commesso il reato. Perché il reato prevede un'invasione arbitraria, cioè senza l'autorizzazione di colui che è il legittimo possessore o detentore dell'appartamento o del terreno pubblico o privato. Può essere la proprietà, non è necessario che sia privata. Sì, ci può essere anche occupazione di proprietà pubblica. Piuttosto che di pubblica proprietà. Sì, sì, certo. Ma avvocato, quando appunto hai detto questa cosa, sono intervenuta perché mi vengono in mente tipicamente le case vacanze che magari si prendono in affitto per un anno, di cui magari il proprietario conserva le chiavi perché va a controllare, va a sistemare, va a far partire l'acqua, il riscaldamento, eccetera. Queste sono tutte cose lecite se ci si mette d'accordo. Però non lo può fare di sua sponte, neanche per emergenze o di urgenze. Ma se ci sono urgenze ed emergenze, si avverte colui che ha il possesso o la detenzione dell'immobile, cioè colui che è autorizzato a occupare quell'immobile, gli si dice per questa necessità devo entrare nel tuo appartamento. vuoi essere presente oppure entro io con le chiavi che mi lasci o con le seconde chiavi che in teoria non dovrebbero esserci le seconde chiavi. Però tante volte, insomma, ciò impedisce anche di spendere dei soldi al proprietario perché può entrare nell'appartamento senza dover sostituire la serratura. Certo, certo. E allora, hai già elencato, insomma, un po' di casistica, un po' di aspetti. Perché parliamo di questa cosa? Cioè, è un ago in un pagliaio o è una cosa che è un problema effettivamente che capita? No, può capitare sicuramente. L'occupazione, ovviamente, arbitraria riguarda tutti i casi in cui io senza il permesso del proprietario invado la proprietà altrui, ma con uno scopo, cioè con lo scopo di abitare, di occupare quella proprietà altrui oppure di trarre un altro profitto. Cioè, il dolo deve essere specifico, non un dolo generico. È richiesto ciò dalla norma per poter condannare eventualmente colui che occupa abusivamente un immobile. Allora, noi siamo abituati, abbiamo visto più volte al telegiornale, abbiamo sentito interviste, abbiamo visto testimonianze di persone che detenevano in maniera del tutto legale un appartamento, un immobile pagando un affitto e in loro assenza veniva occupato da addirittura intere famiglie e poi, ma anche semplicemente perché queste persone andavano a fare la spesa piuttosto che si assentavano per poco tempo e poi non riuscivano più a rientrarne in possesso, addirittura non riuscivano più neanche a recuperare i beni personali all'interno della casa. Ma spiegaci com'è possibile questo, perché noi quando vediamo queste cose rimaniamo allibiti, diciamo, com'è possibile? Io ho le chiavi, anche se c'è qualcuno dentro, entro, casomai io lo prendo ammazzate e lo faccio uscire fuori, a calci nel sedere, cioè questo per interpretare un po' quello che a casa viene da dire. Allora, purtroppo passiamo al lato civilistico, il nostro diritto tutela anche la situazione di fatto, quindi il mero possesso, per cui chiunque si trova nel possesso di un immobile, sia che sia entrato arbitrariamente, sia che sia entrato con un regolare contratto, può far valere i propri diritti. Ma dove sono questi diritti? Io me la prendo come al solito con te, ma tu non sei il legislatore. Cioè non esiste ovviamente in questo caso un contratto che ti legittima, ti autorizza a stare in quell'immobile, hai fatto un'invasione arbitraria, ma sei nel possesso di quell'appartamento. Il fatto del possesso ti permette di attivare quelle azioni che si chiamano proprio possessorie, cioè tutela del possesso. Sono di solito delle azioni giudiziarie di breve durata perché poi si passa dall'esaminare se effettivamente sei nel possesso del bene a verificare se questo possesso è legittimo o non è legittimo per poi dare ragione a chi ha ragione. Però si perde ovviamente del tempo. Attenzione che chi occupa un appartamento in forza di un contratto di locazione o in forza di un comodato, alla scadenza se permane nell'appartamento non commette il reato di occupazione abusiva, perché c'è un titolo che lo autorizzava ad essere nel possesso dell'immobile, semplicemente dà diritto al proprietario a pretendere oltre al canone di locazione eventualmente un'indenità aggiuntiva ed il proprietario per liberarsi di questo conduttore che alla scadenza non rilascia l'appartamento deve per forza fare un'azione giudiziaria per chiedere il rilascio di questo appartamento. Non può entrare con le chiavi perché sarebbe il proprietario a commettere il reato. Ok. Ok. Un reato di occupazione. Sì, della sua proprietà che però aveva concesso in locazione. Però avrebbe, scusa, però perdonami, in quel momento avrebbe il diritto di possesso, no? Nessuno lo può cacciare. Sì, certo. Nessuno lo può cacciare. Ma questo è quello che succede quando? Si praticherebbe una strana convivenza. Sì, questa è la giustizia privata. Questo accade quando il proprietario non si rivolge all'avvocato per sfrattare il proprio inquelino ma agisce in autonomia. Quindi va là e gli dici, senti, cerca di uscire di qua perché diversamente, insomma, ci penso io a farti uscire, a convincerti di uscire. Ok. Se l'appartamento viene liberato ma senza la consegna delle chiavi, il proprietario non può entrare con le seconde chiavi e rientrare nel possesso del bene di sua proprietà. Perché esiste un contratto, ok? Anche se è scaduto. Quindi serve l'autorizzazione del conduttore che rilascia le chiavi, consegna le chiavi. Questo consegna di chiavi non è nient'altro che il passaggio del possesso dell'immobile da chi lo deteneva in forza del contratto al proprietario che ne rientra nella disponibilità. Allora, avete capito? Anche se scade il contratto d'affitto, anche se avete tutto il diritto di riprendere il vostro immobile, affittarlo a chi vi piace di più, o andare voi ad abitarci, occuparlo voi, o tenerlo così a prendere aria, dovete agire per via legale. Noi, Rosella, è vero che cerchiamo di scoraggiare la giustizia privata? Certo, però se ne fa ricorso a questa giustizia privata. Ecco, è un risparmio economico. Ma diciamo, c'è qualcuno dei tuoi clienti che ha provato a fare questo prima di arrivare a te? No, mi dicono, ma io quasi quasi vado, tanto ho le seconde chiavi, l'appartamento è vuoto e mi rientro nel possesso dell'immobile. Ovviamente è un reato, se non c'è, se il contratto non è scaduto, ad esempio, non c'è la consegna delle chiavi, io non posso farlo. Ecco, tu naturalmente avvisi, dici, guarda che è reato, e poi una volta che esce dallo studio. Certo, ognuno è libero di fare quello che crede. Tant'è vero che bisogna appunto avvalersi degli ufficiali giudiziali per poter rientrare nel possesso dell'immobile, nel caso in cui non venga fatto il classico passaggio di chiavi. Eh, però caspita, metti che un inquilino prende, se ne va, libera, e quant'altro non avvisa? Cioè, magari se va anche in un'altra città portandosi via le chiavi, una persona rimane un po'... Eh, lo so, però in quel caso magari c'è una data di scadenza del contratto, c'è una disdetta già comunicata dal proprietario di casa, quindi ci sono degli elementi da cui si può adesumere che non sia un'occupazione abusiva da parte del proprietario, piuttosto che un messaggino via WhatsApp, via mail, dove si dice ti lascio le chiavi sotto lo zerbino, è una consegna chiavi. Certo, certo, i diversi accordi sono sempre consentiti. Assolutamente. Quindi, rientriamo un po' in quello che era appunto il primo caso di cui stavamo parlando, l'occupazione di, facciamo finta, un appartamento altrui, no? Che può essere, come nel caso che ti va, come mai capita così spesso nelle case popolari, quant'altro? Ma perché ci sono esigenze abitative e quindi c'è un tantam tra persone che abitano magari in quei condomini che informano amici o parenti, si è liberato un appartamento e quindi chi ha bisogno magari pensa bene di entrare nell'appartamento, lo sistema, lo dipinge, ci entra, ma commette un reato. Ok, però quello che voglio chiederti è questo. Se queste persone commettendo un reato lo fanno e addirittura lo sistemano, lo dipingono, fanno i traslochi veri e propri e commettono un reato, probabilmente sanno che per un periodo la faranno franca, passami il termine. Ma questo perché? Perché sono lunghi i... Ma perché se parliamo dell'esempio che facevi tu prima, il proprietario di casa che va in vacanza e torna e si trova degli ospiti in casa, ovvio che è un interesse del proprietario attivare immediatamente la procedura per ottenere la liberazione da chi occupa abusivamente la sua proprietà facendo una denuncia penale, attivando subito la causa civile per il rilascio dell'appartamento. Ecco, appunto, come si fa? Arrivo, casa mia occupata e potrebbe essere anche vado in vacanza, torno e c'è la casa occupata, oppure vado nella mia casa vacanza e la trovo occupata. Ecco, questo è un caso che ho sentito proprio poco tempo fa. Faccio una denuncia penale per appunto attivare la procedura, perché come vi ho spiegato prima, perché si possa procedere contro le persone che hanno invaso arbitrariamente la vostra proprietà, dovete fare querela. Quindi entro, ricordatevi, tre mesi dal momento in cui avete scoperto che è stato commesso il reato, dovete sporgere querela. Diversamente la Procura della Repubblica, a meno che non si rientri nel caso di cui parlavamo prima, abuso, commesso, occupazione abusiva commessa da più di cinque persone o con persona armata, non può fare nulla, non attiva d'ufficio la procedura. Quindi denuncia penale e poi ci si rivolge subito all'avvocato per ottenere un rilascio tramite il Tribunale Civile. E questa è la procedura? Sì, questa è la procedura che si deve seguire per poter rientrare nel possesso del proprio immobile. Parlaci di tempistiche. Tempistiche dipende in che periodo accade anche. In che senso? Periodo feriale ad agosto. No, mannaggia, mi gioco tutte le vacanze. Sono procedure che non vengono sospese dal periodo feriale perché le procedure possessorie rientrano in una categoria di atti urgenti e quindi il Tribunale si attiva anche in questo. Potrebbero necessitare due mesi, tre mesi, sei mesi, cioè dipende poi che attività difensiva fa la controparte, insomma, magari parla di accordo di comodato, cioè le persone poi si inventano di tutto e di più pur di rimanere in un appartamento. Allora, magari neanche si conoscono, non c'è l'accordo di comodato. Ti faccio una domanda, Davide ce la fa questa domanda e dice, posto che ho capito che devo denunciare entro i tre mesi, entro tre mesi da quando l'ho scoperto, ma voglio vedere chi aspetta di più, aggiungo io. Non lo fai il giorno stesso. Aspetta. Però, praticamente, mi sono accorto tardi di questa occupazione perché, insomma, le persone erano lì da tanto tempo e si facevano forza di questa cosa per fare la loro difesa. Ma può essere un'arma di difesa quella di dire, ma io ormai sto occupando questa casa da più di un anno, nessuno mi ha detto niente. Come dicevamo prima, ciascuno si difende con tutte le armi che ha, soprattutto per rimanere in un appartamento, ma anche il proprietario si difende con le armi che ha. Capito, ma qual è il giudice che... No, ma nel momento in cui ti accorgi fai subito la denuncia penale e poi ti rivolgi immediatamente all'avvocato perché deve essere affrontato dal punto di vista civile il rilascio dell'appartamento. Parlavamo prima di tempistiche e ho fatto l'esempio del proprietario privato. Ma se la proprietà è ad esempio del comune, ovvio che le tempistiche si allungano perché prima che il comune sappia che è un appartamento, è occupato possivamente, possono passare anche dei mesi, degli anni e quindi la persona rimane ad occupare l'appartamento. Sì, spesso se ne accorgono quando fanno le assegnazioni. Certo, che magari è occupato, oppure non so, se succedono dei guasti e vanno a verificare, si trovano che c'è una famiglia che non ha il diritto di rimanere in quella casa. Poi l'esigenza abitativa non è una scriminante per non essere condannati per questo tipo di reato. Quindi non possiamo neanche dire aveva un bambino piccolo e quindi è occupato abusivamente ad ottenere la scriminante. Allora, questa è una bella domanda, ce la fa Laura, le donne sono sempre furbe. Praticamente lei non ha nessuna casa, è solamente curiosità. Dice, ma se mi dovessero occupare una mia proprietà, posso far staccare tutte le utenze? Uno si difende come crede, però le utenze, io non pagherei le bollette e quindi vengono staccate da qualcun altro, quindi dai fornitori dell'energia elettrica, dal fornitore del gas, però purtroppo le bollette sono interessate al proprietario, quindi se le deve pagare. Certo, però uno può anche comunicare e fare disdetta. Certo, certo, poi sarà l'occupante che dice mi hai tolto un servizio essenziale, quindi me lo devi riallacciare. Ah pure, no? Non ci credo! Ma siamo in causa e quindi ognuno, ripeto, utilizza le armi che ha a disposizione e spera che nel frattempo il giudice abbia già ordinato il rilascio dell'appartamento. Però attenzione, se anche noi otteniamo un provvedimento che ordina il rilascio dell'appartamento, se il rilascio non viene effettuato spontaneamente come non avverrà, dobbiamo avvalerci degli ufficiali giudiziari con le tempistiche degli sfratti. Oh mamma, quindi avanti Savoia! Prima accesso, secondo accesso, nella speranza insomma di riuscire a liberare in modo tempistico. Ricapitoliamo, vi ricordate quando abbiamo fatto la puntata sugli sfratti? Perché giustamente, da un certo punto di vista, in questo periodo di Covid erano stati bloccati, le procedure di sfratto erano state congelate, quindi chi si trovava in difficoltà e non pagava l'affitto o poteva rimanere a occupare, a stare nell'alloggio, ma si creava un danno, come abbiamo detto più volte, per il proprietario, perché magari anche lui ha bisogno di un'entrata, magari la sua unica entrata, magari deve andare lui ad abitare in questa casa, quindi avevamo visto la cosa da entrambi i lati e naturalmente era un disagio, si sono sbloccate le procedure di sfratto? No, la sospensione è prorogata al 30 di giugno 2020. No, ma veramente? Il Covid c'è, permane, e quindi c'è una proroga al 30 di giugno, come anche per i pignoramenti immobiliari che hanno per oggetto le prime case. È tutto sospeso di nuovo fino al 30 di giugno, quindi parliamo di una sospensione ormai che ci interessa da un bel anno, quindi da qui a giugno, 15 mesi circa di sospensione, perché abbiamo iniziato a sospendere le procedure, hanno iniziato a sospendere le procedure da marzo dello scorso anno. Ti faccio una domanda, sempre e considerando che la nostra Rosella Guerini Rocco è un avvocato, non è legislatore, non è neanche un giudice, non ve la dovete prendere con lei, no? Lei mi può solo aiutare, e se fosse per lei, fra parentesi, tante cose si muoverebbero prima. Ma detto ciò, secondo te, come tanti, anche fra i sindacalisti, piuttosto che fra gli addetti ai lavori, dicono, ok, io manterrei la cassa integrazione perché permane l'emergenza, ma lo farei veramente mirata per le categorie colpite. Ugualmente, per gli sfratti, i pignoramenti, non si potrebbe veramente aiutare solo chi ne ha di bisogno? E insomma, è un lavoro troppo grande per i giudici andare a verificare le situazioni? Non è previsto questo dal legislatore, si parla proprio di sospensione delle procedure di sfratto, e quindi il rinvio è d'ufficio, è dovuto, è dovuto, il giudice è obbligato. Il giudice è obbligato, ma il sio... È obbligato a rinviare al 30 giugno, ad andare oltre il 30 giugno del 2021, prima di prendere qualsiasi decisione. Sì, ma chi ci lavora dentro, giudici, addetti al tribunale? Non hanno detto, signor legislatore, però guardi che dall'altra parte ci sono delle persone ugualmente in sofferenza. Il signor legislatore ha preso in considerazione soltanto un aspetto e non l'altro, e quindi i giudici hanno le mani legate perché devono rispettare una norma di legge, e quindi tutto viene rinviato dopo il 30 giugno. E cosa fate nel frattempo? Vi riposate? Ci sono delle cause attive? Sì, sì, le altre cause sono comunque attive, si svolgono regolarmente udienze civili e penali, però ci sono queste udienze di cui parlavamo prima, appunto, sfratti e pignoramenti immobiliari, eventi per oggetto alla prima casa, che vengono rinviati dopo il 30 giugno, perché la procedura, se ci fosse un'udienza nelle more, tra qui e il 30 giugno, il giudice sospende la procedura e la rinvia, fissa una nuova udienza a luglio, a settembre, in base al suo calendario, perché poi sospensione fino al 30 giugno vuol dire che non abbiamo l'udienza al primo di luglio per poter riprendere in mano la situazione, perché il giudice ha un calendario, soprattutto in periodo di Covid i calendari sono stati dilatati e quindi può essere che l'udienza ce l'abbia a fine luglio, a settembre, a ottobre. C'è un anno da recuperare di udienze? Un altro problema, un problema sul problema. Allora, in questo caso però facciamo proprio una domanda tecnica. Se i nostri telespettatori sanno che tutte queste udienze, tutte queste cose sono sospese, se hanno un problema di questo tipo, per sfratto, occupazione, insomma, di pignoramento per andare avanti, tu che cosa consigli, visto che tu sei quella del fa, di muoviamoci, consigli ugualmente di iniziare la procedura o dire tanto è tutto fermo, inutile che vado dall'avvocato, faccio e disfo? Ci sono dei blocchi, quindi se non si può fare, non si può fare, non è una cattiva volontà. No, no, io intendo dire, cosa consigli di iniziarla allo stesso la procedura? Ma sì, la notifica la puoi fare comunque, dello sfratto, ma comunque sai benissimo. che l'udienza la devi fissare oltre il 30 di giugno. Se la fissi prima, comunque il giudice puoi sospendere in via. Ok, però tanto non scade, cioè non è che noi prepariamo della documentazione con l'avvocato? No, no, non scade, non scade. Bene, abbiamo detto anche questa cosa. Ho un'altra domanda, Rosella, che qua sembrava un argomento, però. Invece, praticamente, prima l'avvocato parlava... Aspetta che l'ho persa. Dov'è, 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 dov'è? Eccola qua. Valentina. Prima l'avvocato parlava di occupazione anche di terreni. Sì? Ok. Praticamente io ho un terreno non recintato, che non è chiuso in nessun modo, dove è occupato da una roulotte. Insomma, ci stanno campeggiando, ma da tanto tempo. È occupazione abusiva, quindi può assolutamente rivolgersi ad un avvocato, e siccome è già passato tanto tempo non può più fare la querela per chiedere che si proceda penalmente contro colui che ha commesso l'abuso, ma può soltanto ottenere la liberazione del suo terreno, perché l'invasione arbitraria può riguardare sia edifici sia terreni e la finalità di questa invasione deve essere l'occupazione oppure altro genere di profitto, il deposito di materiale, ad esempio, e comunque occupazione. Ah, ok. Quindi anche se non lo occupo fisicamente, ma deposito del mio materiale. Certo. Ma perché questa cosa che se non lo comunico subito poi non posso fare la procedura penale? Perché, come spiegavo prima, è un reato perseguibile a querela, e siccome la querela può essere fatta soltanto entro i tre mesi, dal momento in cui scopro... Ma io dico che l'ho scoperto adesso. Eh, vabbè, ok. Si può fare. Vabbè. L'avvocato non lo sa, non è che era lì l'avvocato. No, no, poi si può andare dai carri. Ma dice, ma scusa, è il terreno dietro casa tua, c'è la roulotte da sei mesi? Da sei mesi, non l'ho mai vista. Io non apro le finestre o le porte finestre. È l'altro lato. Eh, va bene, dai, fatto... Insomma, l'avvocato serve anche per portare avanti la nostra tesi, no? Sì, certo, se ci sono... Oh, Rosella, scusami, si difendono... Da occupazioni abusive, dicendo che c'era un accordo col proprietario? No, quello che voglio dire io è che gli avvocati difendono anche i delinquenti, cioè gli assassini e tutto, quindi figurati se non hanno una strategia di difesa per queste cose qui, insomma. Certo, si organizza. E anche un po' il vostro... La strategia deve essere organizzata. Si organizza la strategia difensiva, ecco. Eh, certo. Va bene, pubblicità per noi, torniamo. Abbiamo ancora tante domande da fare al nostro avvocato. Eccoci qua, siamo tornati in studio, lo facciamo con il nostro amato avvocato Rosella Guerini Rocco, che ci accompagna sempre attraverso, insomma, dei reati, delle cose che ci fanno un po' sorridere, un po' arrabbiare, un po' ci fanno rimanere anche straniti davanti alla legge che a volte sembra voglia tutelare quasi chi commette l'illecito. E ride. E ride, ma è così, perché il nostro pubblico è arrabbiato. Allora, Luca ci chiede, ci fa questa domanda. Ma è vero che c'è una legge che se tu occupi anche una casa per dieci anni a fila e nessuno la reclama diventa tua? Che voi stai chiedendo, rispondi che diventa lo sport preferito. Andiamo a caccia di appartamenti per occupare. Adesso sai, questo credo che nessuno ha niente da fare, che si cerca... Le case al mare sono vuote perché uno non può raggiungerle. Allora, non sono dieci anni, ma sono vent'anni. E l'istituto è quello dell'usucapione. Cioè, chi occupa in buona fede per vent'anni un immobile, un terreno, ritenendosi proprietario comunque di quel terreno, comportandosi come se fosse proprietario, può usucapire la proprietà di questo immobile, facendo però una causa contro gli effettivi e legittimi proprietari, che sono coloro che risultano proprietari dai registri immobiliari. Quindi, trascorsi i vent'anni, io sempre rivolgendomi ad un avvocato, informo l'avvocato che ho occupato questo appartamento, questa proprietà, da oltre vent'anni, che ci sono dei testimoni che possono confermare questo, che io mi sono comportato come se fossi proprietario, perché ho fatto interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e quindi rivolgendomi al giudice posso ottenere una sentenza che mi dichiara proprietario a titolo originario di questo immobile. A titolo originario perché non è un acquisto che io effettuo da un precedente proprietario, ma è un acquisto che deriva da una sentenza, quindi da una dichiarazione che proviene dal tribunale. Ma è invece il proprietario originale? Ovviamente i contraddittori in questa causa, cioè le controparti, sono coloro che risultano essere gli effettivi proprietari. Talvolta sono deceduti perché l'immobile magari era di proprietà di qualcuno che poi è emigrato in America, i legittimi eredi non hanno mai invocato la loro proprietà su questi beni, neanche magari sapevano di aver ereditato questi beni, quindi il vicino di casa che ha occupato questo appartamento deve citare in giudizio gli effettivi proprietari, cioè coloro che risultano proprietari dai documenti e se loro non si difendono, non hanno alcun interesse a dimostrare che invece sono intervenuti in questi vent'anni degli altri interruttivi di questo periodo, possono benissimo capitare situazioni in cui l'occupazione per vent'anni si conclude con una sentenza dichiarativa, una sentenza costitutiva di questo diritto di proprietà. Mamma mia, sembra una cosa di altri tempi, quasi medievale questa occupazione. Mi ricordo di averla sentita spesso per quanto riguarda magari i terreni, di gente che iniziava a coltivare campi attigui e propri eccetera e poi se nessuno li reclamava insomma diventavano suoi. Però così per le case non l'avevo mai sentito. Certo che vent'anni sono lunghi. Certo, però per la proprietà agricola il tempo è ridotto di 15 anni. Per i terreni agricoli è inferiore la durata perché c'è proprio una normativa specifica. Però certo il periodo è lungo, ma vent'anni passano velocemente. Ecco, legandomi un po' agli esempi che hai fatto, qualcuno che è emigrato in America, qualcuno che è lontano eccetera, e quindi in realtà vent'anni possono trascorrere davvero a volte velocemente. Che cosa può fare una persona anche da lontano? Se qualcuno gli telefona e gli dice oh guarda che qua a casa di tua nonna in Italia ci sono delle persone che l'hanno occupata. Io dall'America magari non mi posso spostare, diventa più oneroso quasi spostarmi che non far nulla. C'è qualcosa che posso fare? Ma sì, si può conferire una procura speciale ad una persona che è in Italia che faccia le veci dell'effettivo proprietario. Ovvio che questa persona che abita lontano deve essere interessata alla proprietà. molti dicono ma sì, ma non mi interessa, non andrò mai a vivere in Italia, che le cose seguono il loro corso e pertanto magari non fanno neanche le dichiarazioni di successione. Perché se venisse già fatta una dichiarazione di successione, se venissero pagate le tasse, io riesco a dimostrare che in questi anni comunque io sapevo di essere proprietario, mi sono attivato per tutelare, proteggere la mia proprietà, magari mandando anche soltanto qualcuno a fare degli interventi, piuttosto che a vedere se la casa era occupata o no. Mi posso difendere in una casa di usucapione? Assolutamente. Però devo dimostrare che in qualità di proprietario mi sono attivato e ho interrotto questi vent'anni, perché ci sono alcuni comportamenti che possono dimostrare al giudice che questo possesso non si è prolungato per vent'anni in modo indisturbato, perché deve essere indisturbato il possesso. Tant'è che queste persone poi credono che davvero l'immobile sia il loro, non c'è stato un rogito, però vabbè loro si convincono che sia il loro. Va bene, detto ciò Rosella, è molto facile, prima ci facevi un esempio, un esempio di magari parti di immobili che rimangono fuori dagli atti e lì davvero è un errore. Certo. E' più comprensibile? Sì, sì, ci sono situazioni in cui magari per errori risalenti nel tempo, magari dichiarazioni di successione con delle mancanze, possono causare delle situazioni in cui per errore si trasferisce un immobile nella convinzione di trasferirlo integralmente, invece magari ci si dimentica di un mappale che corrisponde ad esempio a un accessorio, che può essere un box, un garage o addirittura una parte di casa. E quando ci si accorge di questo, ovviamente si può invocare l'istituto dell'acquisto di questa parte di immobile tramite usucapione. E' una causa che si fa contro l'effettivo proprietario perché magari per errore nel rogito o nell'atto notarile non si è indicato un mappale che fa però parte dell'immobile che è stato venduto, quindi la volontà delle parti era quella di vendere l'intero immobile. Se poi per errore, per dimenticanza, si è omesso un mappale, ovvio che è un caso tipico in cui può essere richiesto l'acquisto di proprietà attraverso l'istituto dell'usucapione. Ma in questo caso, dove veramente è un errore a causare tutto ciò, chi paga le spese? Perché poi comunque ci sono gli avvocati di entrambe le parti, le spese legali, eccetera. Quando non è colpa di nessuna, in realtà non è colpa di nessuna delle due parti qui? Dipende. Cioè se c'è qualcuno, qualche professionista che ha commesso un errore, ad esempio il notaio che ha commesso un errore, piuttosto che un avvocato che magari si è dimenticato qualcosa in una precedente causa di usucapione, che obbliga a fare una seconda causa di usucapione, ci sono ovviamente le assicurazioni dei professionisti che risponderanno qualora potrà essere dimostrato l'errore di questi professionisti. E speriamo che dopo 20 anni c'è ancora il professionista. Ma infatti c'è. Magari è anche difficile andare a recuperare. Magari l'errore risale a 50 anni fa, 60 anni fa. Cioè ci sono, adesso è tutto meccanizzato, è tutto telematico, è molto più semplice. Una volta le dichiarazioni di successione erano manuali, quindi era un attimo dimenticarsi un mappale. oppure i rogiti erano scritti a mano, si potevano anche sbagliare dei numeri, e quindi tutto era possibile. Gli errori, chi non fa nulla non sbaglia, e chi fa qualcosa sbaglia. Quindi gli errori ci sono sempre stati, però, insomma, si può ovviare. Si può ovviare, o nell'immediatezza, se ci si accorge dell'errore, oppure nel secondo tempo attraverso anche l'Istituto dello usucapione. Allora, Avvocato, mi spieghi invece com'è possibile che, siccome si riallaccia al nostro Carlo, prima si parlava di utenze. Sì. Faccio staccare le utenze, così, insomma, quello si arrangia, no? Chi mi occupa l'immobile. Nel caso di usucapione, o nel caso di occupazione, com'è possibile che queste persone senza titoli riescano a farsi allacciare le utenze. Mentre io, quando devo farmi allacciare un'utenza, devo portare contratti su contratti, prove su prove. In realtà è così, perché tu quando devi farti allacciare la luce e il gas, vogliono il contratto d'affitto, il proprietà, l'atto, eccetera. Allora, adesso è così, ma fino a poco tempo fa non era così, non ti chiedevano nulla, addirittura fino a qualche anno fa per trasferire la residenza non ti chiedevano la copia del contratto. Adesso chiedono la copia del contratto per poter trasferire la residenza, cioè per poter dimostrare che effettivamente tu hai un titolo per poter richiedere il trasferimento di residenza. Per quanto riguarda le bollette, allora, se uno fa un'occupazione abusiva, certo non si intesta le utenze, le utenze rimangono intestate al proprietario. Al povero proprietario. Poi magari è la fortuna che le utenze ti vengano inserite nella cassetta della posta, se vuoi paghi, e quindi l'utenza non ti viene staccata, e se non paghi, ovviamente l'amorosità risulterà a carico del proprietario, il quale se ha addebitato la bolletta sul suo conto corrente fa bene a togliere la domiciliazione. Immediatamente. Immediatamente. Diversamente le cose vanno come devono andare, cioè l'utenza verrà interrotta per mancato pagamento della bolletta. Ma chi occupa abusivamente non ottiene l'intestazione delle bollette a suo nome, ma non ha neanche l'interesse a farlo. Certo. Sono persone che vivono magari di espedienti e che cercano di sfruttare momenti un po' particolari per avere un tetto sopra una testa. Certo. Allora, diciamo che, come ci ha ben spiegato il nostro avvocato, adesso anche questi enti sono un po' più attenti e per questo noi ci annoiamo quando chiedono tanti documenti, ma a volte è proprio per la nostra tutela. È una garanzia, è una garanzia. Dici, perché vogliono sapere il mio contratto d'affitto, questo o quell'altro? Perché altrimenti non potresti avere le utenze in maniera, insomma, giusta, legale. Tu non avresti nessun titolo per avere queste utenze. Stessa cosa, appunto, come ben ricordavi, per la residenza. Sai, non so mai ti trovi qualcuno sullo stato di famiglia, di non gradito. Va bene, che bel mondo. Invece, io dicevo, caro Carlo, capita anche che queste persone si attacchino direttamente? Questo è un altro reato. È furto di energia elettrica. Sì, fanno dei bypass, per cui evitano il contatore e si collegano prima del contatore. Sono espedienti che vengono utilizzati, purtroppo, da persone che subiscono il distacco dell'utenza dell'energia elettrica. Ed è un reato, anche questo, perseguibile a querela dell'ente che ha subito, ovviamente, questo furto di energia elettrica. E perché capita nei casi di sfratto, questa cosa qua? Sì, o anche, ma non necessariamente di sfratto, anche l'inquilino stesso, piuttosto che anche il proprietario, se è nella disperazione più totale, non è detto che sia un atteggiamento che metta in atto soltanto l'inquilino o colui che invade abusivamente. Anche un proprietario può farlo. Allora, sempre, adesso ci siamo buttati sulle utenze, dove, eccolo qua, Vittorio ci dice, ci chiede, ma è vero che le utenze, quelle proprio vitali, tipo la luce, non possono esserti staccate del tutto anche se non paghi? Ma tutte le società che gestiscono l'energia elettrica, piuttosto che il gas, dopo una certa morosità, ti abbassano per quanto riguarda l'energia elettrica, la potenza per un po', poi te lo staccano senza problemi. Senza problemi, poi tu se vuoi paghi e ti riattaccano. Ti lasciano al freddo e... Sì, questa è una problematica più che altro che esiste nei condomini, perché c'è magari il condomino moroso nel pagamento delle spese condominali che beneficia del riscaldamento, della luce comune sulle scale, dell'acqua, che viene pagata ovviamente dagli altri condomini. Si riferisce probabilmente a questa, a quest'ipotesi il nostro telespettatore. E in questo caso, cosa succede? L'amministratore di condominio prenderà in considerazione la possibilità di recuperare le spese legali e le spese condominali tramite appunto un avvocato, se però non riesce perché il proprietario non ha un'attività lavorativa piuttosto che è un autonomo quindi non è in grado di poter pignorare nulla. La casa è già pignorata, può l'assemblea deliberare magari il distacco da queste utenze e una volta deliberato questo distacco si fa autorizzare dal giudice per l'effettivo distacco. Ma se è fattibile perché se è un immobile che beneficia di riscaldamento comune ed è nel centro del condominio come facciamo ad isolarlo se le canne sono verticali non è possibile quindi gli altri condomini fanno un'opera di buona e quindi pagano le spese di riscaldamento anche per chi non paga. Eh, va bene, si fa volontariato cari degli spettatori. Bisogna scegliere bene il condominio prima di tutto bisogna sapere chi abita in condominio se ci sono delle morosità quindi quando si decide di acquistare un immobile bisogna farsi dare dall'amministratore condominiale il bilancio consuntivo vedere se ci sono dei morosi anche se i nominativi possono essere oscurati ma basta vedere se ci sono delle morosità importanti a questo punto si decide se acquistare o no in quell'appartamento in quel condominio. Non mi conviene Va bene, allora diciamo che veramente abbiamo dato un po' di casistica la legge ci dà gli strumenti in questo caso secondo me è importante ripetere che in caso di occupazione c'è il penale Certo, che comunque è un'arma a disposizione di coloro che subiscono questo comportamento illegittimo da parte di terze persone. L'altra cosa che ci piace ricordare non fatevi giustizia da soli andate da Rosella a Guerrini Rocco per ci pensare è abbastanza guerrita per fare le cose e appena riaprono i tribunali No, i tribunali sono aperti Te lo dico appena riaprono a certe sentenze insomma a certe cause sei già lì pronta con i tuoi bei fascicoloni Pronta, siamo tutti pronti noi avvocati siamo tutti pronti Va bene grazie davvero di essere stata con noi anche questa sera di averci portato la tua professionalità Prego grazie a voi di avermi invitata buonasera a tutti Ci vediamo alla prossima con Rosalia Guerrini Rocco e con voi ci vediamo lunedì per un'altra avvincente settimana che inizierà con la nostra assicuratrice a lunedì grazie a tutti Grazie a tutti.